Su Spettacolomania diamo un grande benvenuto a Gildo Claps, come stai emozionato per questa serie? Sicuramente c'è tanta emozione, un coinvolgimento fortissimo, l'ho seguita fin dai primi passi, fin da quando era soltanto un progetto con tutti i timori e le perplessità che poteva comportare e rappresentare questa storia in un progetto di fiction. Oggi, che siamo in direttura di arrivo, posso dire che sono estremamente sollevato rispetto ai miei timori e sicuramente felice di quello che è stato realizzato. Io ovviamente l'ho vista per intero tutta la serie e l'ho trovata davvero straordinaria perché restituisce senz'altro in maniera, tra l'altro, molto molto aderente alla storia. Questi anni, che sono stati anni per noi difficili, dolorosi, hanno lasciato ferite profondissime che ancora non si sono rimarginate purtroppo. E quindi tutto il cast, il regista e la produzione hanno davvero fatto un lavoro eccellente. Quindi sia io che la mia famiglia siamo estremamente soddisfatti di questo prodotto. Gildo, ci racconti chi era Elisa e quanto la rappresenta l'interpretazione di Ludovic Ciaschetti? Beh, per dirvi quanto rappresenta Ludovica Elisa nella fiction, vi racconto di un episodio che è accaduto sul set. Mamma aveva insistito per andare a conoscere Ludovica perché aveva la curiosità, ovviamente, e soprattutto la necessità di vedere chi avrebbe interpretato Elisa. E quando siamo stati sul set, Ludovica quel giorno ovviamente aveva gli abiti di scena, quindi quel maglione famosissimo di quella foto iconica che Elisa indossava quella mattina, la mattina del 12 settembre. Ed è stato un momento di una commozione straordinaria perché si sono abbracciate, mamma e Ludovica, hanno pianto insieme. E si è commosso praticamente tutto il set perché è stato un momento davvero emozionante. Quindi questo per dirvi quanto è stato realistico vedere Ludovica rappresentare e interpretare Elisa. Ma devo dire che tutto il cast ha fatto un lavoro straordinario nel trasferire anche il carattere, le espressioni dei personaggi, di noi. È strano parlare così, nel senso che davvero è molto, molto particolare vedere rappresentare la propria vita, la propria famiglia in una fiction. Però ho ritenuto io e la mia famiglia doveroso anche questo perché passano tantissimi messaggi in questa fiction. Primo fra tutti il messaggio di estrema attualità di quanto sia importante mantenere alta l'attenzione sulla violenza sulle donne perché è indubbio che Elisa è stata vittima di un femminicidio, 30 anni fa non si chiamava così, è stata vittima di uno stalker che era da Nilo Restivo e non si usava questa espressione. Oggi c'è una sensibilità diversa e poi si parla di scomparsi, che è un tema, come potete immaginare, che mi è molto caro. Si parla di Penelo, per l'associazione che ho fondato nel lontano 2002. Quindi tocca tanti temi di estrema attualità, fa memoria in un paese che spesso è avaro di memoria e poi, consentitemi, restituisce anche la dignità di Elisa che spesso l'è stata rubata in questi anni e fa arrivare quel sorriso straordinario che in tanti conoscono lo farà arrivare in tutte le case. Era così quindi Elisa? Sì, era proprio così. Nel libro che mamma ha fortemente voluto, che è uscito in questi giorni, si chiama Io sono Elisa Claps, di Maria Grazia Zaccagnino, sono riportati, estratti dei suoi diari per la prima volta perché li avevamo ritenuti estremamente riservati, perché io personalmente ritenevo fosse l'ultimo baluardo all'intimità di Elisa. Mamma invece ha voluto che in qualche modo dopo 30 anni tutti potessero conoscere Elisa e chi avrà la fortuna di leggerle quelle pagine scoprirà davvero chi era Elisa. Grazie mille. Grazie a voi.